Allora ragazzi c'è un formidabile scontro tra Capanna e la Sant'Anchè, Capanna e la Sant'Anchè, non male, non male, è tornato il signor Capanna che fra poco sarà in collegamento ad altri con noi, anche con noi per bastonare naturalmente i conduttori di questa trasmissione eccetera, comunque Capanna, Sant'Anchè, lei milita in un partito fascista dice Capanna. I nostri padri e i nostri nonni tra il 40 e il 45 hanno sopportato 5 anni di guerra, di bombardamenti feroci, Sant'Anchè compresa l'occupazione nazifascista, allora questo per dire che se si ragiona con la propria testa, nonostante il disagio che provoca il lockdown, non riesco a capire questa connessione. Ma cosa sta dicendo? Ma lei quando non argomenti tira fuori il fascismo, si permette di paragonare il cenone alla disgrazia che ha colpito questo settore. Non voglio polemizzare con lei, non voglio polemizzare con lei, è innegabile la forte pazienza, è innegabile che le milita in un partito che ha tradizioni e origini fasciste, non c'è dubbio. Ma cosa dice? Vorrebbe dire che siamo fuori dalla Costituzione. Si è gentile, mi lascia parlare, mi lascia parlare, io non l'ho mai interrotta. Ma lei non dica cazzate però, se non dice cazzate io non l'interrompo. Si è gentile, no, le cazzate le dice cazzo mai lei, le dice cazzo mai lei. Le dice cazzo mai lei. No, no, le dice lei, perché vorrebbe dire che noi come Fratelli d'Italia siamo fuori dalla Costituzione, non c'è il fascismo. Non profitti del fatto che è donna, mi lasci parlare, io non voglio dirle delle parlacce o degli improperi, però mi lasci parlare. Lei sta fanificando, lei sta fanificando. Mi lasci parlare, ho semplicemente ricordato un fatto storico, punto. Può piacere o non piacere, ma questo è il punto. No, no, non è un fatto storico, fratelli d'Italia è un partito costituito con le prologative che dice la nostra Costituzione. Ma la porta pazienza, ho la giustizia tu. Signor Capanna, ce la so. A me piace perché non perde mai le stasche e va dritto nel punto. La cosa importante, mi fatemi parlare, a me non interessa nulla, io incomincio a raccontare, a parlare. Voi potete anche fare questo rumore, questo brusio di sottofondo, ma io vado avanti nel punto. Questa trasmissione che è la diretta emanazione del movimento sociale italiano, tant'è che naturalmente è così ed è innegabile che sia così. Questa trasmissione che ormai ha qualche annetto è la diretta emanazione del corpo di Almirante. E se non altro, il fascismo all'ennesima potenza, parlano, parliamoci molto chiaro, ma non voglio offendere nessuno e non dovete interrompere. Parlano in questa trasmissione nell'ordine, negazionisti, neonazisti. Eric Prib, che in passato il suo avvocato qui ha letto il suo testamento. Allora è inevitabile che ormai questo connubio tra il grande capitale, vali a dire la Confidustria, e il neofascista che guida questa trasmissione, che si chiama Giuseppe Coruciani, che più volte naturalmente ha rivendicato il diritto di intervistare dei neonazisti, fa sì questo cocktail esplosivo che questa trasmissione è, per l'obietà transitiva, una trasmissione di neonazisti. Ora, vi dovete chiedere, che cosa farebbe Mario Capanna negli anni 70, qualora si trovasse davanti a una trasmissione di questo tipo? Come prima cosa, invaderebbe la sede con un gruppo di Katanga. Il motto era, dai Katanga fuori la Sparanga. Avrebbe invaso la sede, naturalmente. Avrebbe creato un grandissimo collettivo. E pura violenza questa. E avrebbe, la violenza naturalmente era giustificata perché è contro i padroni. Cosa che voi, naturalmente, siete al servizio dei padroni, perché avete unito, lo ripeto ancora. Ma mi faccia finire, il capitale, la confindustria, unità al fascismo e ai contenuti indubbiamente facili. È un dato di fatto di questa trasmissione. Fossi lei, Corrucciani, rivendicherei il diritto ad essere fascista. Perché sarebbe un'operazione di trasparenza e di chiarezza. Ma no, ma non per me, io lo rivendico per gli altri. Sarebbe naturalmente, caro Corrucciani, un atto di chiarezza anche rispetto alla confindustria, che infatti nel suo simbolo ha l'aquila. Di che cos'era il simbolo l'aquila della confindustria durante il periodo? E allora 2 più 2 fa 4 a casa mia. È evidente che in un contesto come questo l'unica possibilità è quella di invadere le due sedi, quella di Radio 24 di Milano e quella di Radio 24 di Roma. Ormai deserta, ormai deserta, causa pandemia. Quindi non ci troveremo di fronte nemmeno alla resistenza. Le compagnie e i compagni potrebbero facilmente entrare in questo pobo di neofascisti. Una volta occupata questa pregiata trasmissione, cominciare a trasmettere finalmente quella che potremmo definire Radio Capanna, una specie di Radio Londra, una specie di Radio Londra. Con i soldi di Vitalizio. Naturalmente con gli 8 mila euro di Vitalizio. Io sono stato nell'ordine parlamentare europeo, consigliere legionale per più legislature. Parlamentare italiano, naturalmente. parlamentare italiano, di DP, il simbolo era DP, democrazia proletaria. Che per me significa semplicemente doppia anale. Democrazia proletaria. Gloriosamente deputato, senatore, parlamentare europeo, mi deve far finire perché ho preso il microfono in mano. Negli anni 70 non mi si toglieva il microfono. Altrimenti mi avrei preso a calci nel culo. Quelli come me che facevano negli anni 70. All'università non entravano, se entravano venivano buttati giù dalla finestra a un certo punto. Tecnicamente defenestrati. Non dal secondo piano, altrimenti le conseguenze sarebbero state drammatiche. Da un primo piano, portando semplicemente delle contusioni molto gravi in quanto fascista. Allora la situazione è molto semplice. Ho provato a spiegare all'onorevole Santanché, che spessa mi dovete far finire, che sono dei rivoluzionari. I signori di Globo, naturalmente, faccio un appello agli amici. Voi che guadagnate poche cifre, io guadagno 8 mila euro di Vitalizio. Naturalmente, di Vitalizio. E mi sposto ancora gratuitamente da una parte all'altra di Vitalia, perché c'è una cosa straordinaria, che i deputati viaggiano gratis. Ora, che si dovrebbero fare i rider? Dovrebbero dare anzitutto fuoco ai locali che gli danno da mangiare, perché l'unica forma di protesta è quella della violenza. Il capitale è violento? Il capitale è violento. Il capitalismo genera sangue, morti e violenza. Noi dobbiamo generare la violenza. Allora, voi prendete le vostre biciclette, questo è l'insegnamento che vi voglio dare. Quando vi dicono, devi consegnare questo al signor Cruciani, e ti daranno 10 centesimi per quella consegna, tu prendi la pietanza, la metti dentro quella specie di frigorifero che dovrebbe tenere calde, quelle orribili pietanze che ti arrivano a casa, prendi la bicicletta e gliela scaraventi contro il negozio. È un grande atto rivoluzionario, è un atto che mette il padrone nella condizione di dover ricostruire la vetrina, perché è il negozio danneggiato. A quel punto, se tutti facessero così, tutti i rider d'Italia, il sistema si blocherebbe e sarebbe la grande rivoluzione a gatto selvaggio, che erano le manifestazioni che facevamo con gli operai. anche gli attentati nei confronti dei signori, mettere bombe dentro il cibo. No, 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 gli attentati quelli le facevano le bagnate rosse. Noi abbiamo semplicemente devastato qualche vetrina, naturalmente abbiamo gambizzato in un periodo qualche professore universitario che non voleva darci il sei politico. Insomma, è stata una grande storia che vi vorrei raccontare. L'ho raccontata nel libro Formidabili quegli anni. Roberto da Roma, Roberto da Roma. Dimmi Roberto, dimmi. Buonasera. Dimmi Roberto, dimmi. Dimmi. Dimmi Roberto, dimmi.